Per continuare a permanere, punto F, attraverso Francesca R, 12 novembre 2023, Michelle. Se vivessero di sentire nel corpo fisico, sarebbero dei maestri incarnati che hanno l'utilità del maestro all'interno del piano fisico. Altrimenti non ha senso sprecare necessità e risorse per continuare a permanere in un piano di esistenza che già non appartiene. Quello che tu noti è perché noi parliamo sempre piano di esistenza per piano di esistenza. Ma dovete pensare che non è che siete spaccati in milioni di pezzi e ogni pezzo prima recupera se stesso, poi si unisce all'altro pezzo, recupera quell'altro pezzo e poi procede fino a ritrovarsi ad essere tutto un pezzo, quindi essere l'assoluto. No, avviene una contemporaneità di abbandono di tutti i piani di esistenza per essere solo il piano acasico. In questa contemporaneità di abbandono dell'io e quindi del divenire in tutte le sue accezioni possibili, può essere che in un piano di esistenza si intraveda da parte degli altri il cambiamento vibratorio che tutta quella forma coscienziale sta avendo.